Logicamente odore di primarie, c'è chi fa logicamente la sua propaganda, è vero dottoressa Negri? Ci siamo fatti in mercato e la cosa bella è stata che la gente si è l'unica che venite e consegnate direttamente i volantini e noi siamo così, siamo spontanei. Vuol far vedere il suo... ecco. Qui ci sono dei punti programmatici. Logicamente poi oggi la vedremo. C'è mi chiamato la gente, grazie, c'è me l'aiutante che serve. Quindi si lavora sul territorio per queste elezioni. Si lavora sul territorio. Questa è la sua staff, dottoressa Negri? È ristretto, è lì proprio gli operativi. Vabbè, siamo in piano centro a Bialdo Moro, ci sentiamo oggi pomeriggio. Grazie, ciao Pasquale.